Tra Tank e Big Gina ci siamo, tutto pronto, partiti i cavalli della sesta corsa del pomeriggio. La chidiva è la più veloce per pochi istanti però perché quella intenzionata a farsela davanti è Regina di Quadri che in poche battute prende proprio il comando. La terza posizione con la giuba celeste blu è per Kendra Joy, poi la giuba marrone, maniche gialle, quella di zona d'ombra che precedono la favorita Big Gina e poi Mike Pancake che chiude in coda al bambino. Ma comunque molto vicino al resto del gruppo con Regina di Quadri senza indugiare dando sempre un bel appoggio al suo interprete e soprattutto imbastendo un ritmo direi interessante che è ancora davanti all'imbocco della curva nei confronti Lucky Diva, poi Kendra Joy, zona d'ombra e ancora Mike Pancake e Big Gina a completare il quadro dei sette partecipanti che sono raccolti in circa sette lunghezze. Siamo già su tre quarti della piegata, Regina di Quadri sostenuta nonostante ci sia già un ritmo piuttosto sollecito, Kendra Joy che si avvicina per corsie interne, poi Lucky Diva per corsie esterne, zona d'ombra che cerca lo steccato opposto, Big Gina che adesso sta osservando gli eventi quando siamo già a 500 dal traguardo. Kendra Joy che va a mettere pressione rispetto a Regina di Quadri per corsie esterne, zona d'ombra si avvicina insieme alla Lucky Diva, di dentro c'è anche Big Gina, ci sono almeno 5 cavalli che vanno a lottare con l'ampio ventaglione, zona d'ombra allo steccato opposto, è preponderante quando mancano ancora 200 metri dal traguardo, deve spostare e muovere. Ma è tutto fatto con la quota piuttosto abbondante per la vittoria di zona d'ombra che torna in all weather e vince bene, secondo posto per Lucky Diva al terzo invece Kendra Joy. Vince zona d'ombra, le linee erano le stesse identiche, a far la differenza è stata sicuramente l'all weather oltre al peso interessante, zona d'ombra, Salvatore Basile in sella, il training è quello di Roberto Di Giacinto, colore di Paolo De Dominicis, 4 al primo posto, con Salvatore Basile che guarda il maxischermo, come detto quota 8 per il vincente e 3 di piazza, secondo posto, vediamo un po', per Lucky Diva, quindi 4-2 e poi al terzo numero 6 Kendra Joy è tutto. Grazie. 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 Grazie.